Tu hai involucrato solo per questo? Vito, sei un senso. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Fatti ammazza. Allora... Sei pronto per il tuo destino? Allora... 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 Sì, Sì, Sì. Sì. Hai trovata? Merda. Non fiatare, cazzo. Su le mani. Piano. Calmati. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. Cora. Imbecille. Cora. 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 Qui che per la него è? Cora. borne. Cora. Ma non è giusto Se vuoi un consiglio, trovati una soldatina I turni passano prima Certo, lo terrò presente Cazzo, le Iene si stanno avvicinando Bastardi maniaci, devono morire tutti Ehi, sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro Forse è arrivata l'ora di combattere No, pensa a cosa è successo l'ultima volta Neanche Isaac è così matto Gira questa voce Calzate Sul set, nei quartieri dell'avamposto Li ho visti io La prese se le viene, mi danno il capito Si chiamano morati Come fanno ad avvicinare tutti? Calmo! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Forse se avessi messo più guardi a Abby sarebbe ancora incerto Quando è stata qui Abby? Non sono uno stupido, dobbiamo sapere dove è andata Quando Isaac ci chiederà un parere Io gli dirò quello che posso Al diavolo devo tornare al lavoro Nora, io non voglio pagare per lei Non gridare Metti giù quella roba Ti ricordi di me? Certo Ti ricordi di me Che cosa vuoi? Abby è passata da qui Dov'è andata? Non lo so Se mi spari Questo posto si riempirà di soldati Ma tu sarai morta Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera Potevamo ucciderti Forse avreste dovuto O forse non sareste dovuti venire a Jackson Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte Sì Quello stronzo non meritava nient'altro Tocca Aiuto Un'intrata Ehi C'è nessuno Nora Non sperare di salvarti Sparatele! Fermati! Cuveri! Ecco ti! Giù le armi No, no, aspetta No, no, no Indietro! Abbassa la pistola Possiamo ancora sistemare tutta Cetta cazzo Abbassala, su le mani Indietro Non hai via di scampo No No Fermati! No Chiudi sotto! Settetela! Maschere! Perché la corrente è attiva? Non importa Troviamo l'intrusa Un'intrusa Ma lì che? Nora non ha l'intrusa Ma cosa è stato? Ehi! Assezione! Vieni! Contatto obitivo! Viagra di scappoli! Vieni! Contatto obitivo! Contatto obitivo! Ok... Tuve sei finita. Contatto obitivo! Contatto obitivo! Impe connections to Flavio, Contatto obitivo! Contatto obitivo! Ciao, Nora. Oh, signor. Dov'è Abby? Stai... stai inalando Spore. Tu... sei tu. Sei una luce? Le luci non esistono più. Dov'è Abby? Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce? O rendere tutto molto doloroso? Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. L'ultima occasione. E non crederò alla mia amica. La mia amica. A presto. Sono io. Ellie. Va tutto bene? Cazzo. Stai sanguinando. Si è nascosta qui. In questo acquario. Ok. Andiamo. Ti aiuto a lavarti. Le braccia. No. 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 Sì. L'ho fatta parlare. Ehi. Non importa. Non voglio perderti. 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 E avete lasciato tutto qui. Andiamo. Deve esserci qualcosa. Perché siete scappati? Questa cosa è? Non voglio perderti. Sono io? Non voglio perderti. Non voglio perderti. Eh? Si. Non voglio perderti. In mezzo lui. Non voglio perderti. Chiudal. Grazie. Grazie. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io, non so con quale gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere e la ragazza. Ma hanno detto che, anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Il miracolo, qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. Il miracolo, qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di... Annie! Vieni qui. Che ti è saltato in mente? Scappare così nel cuore della notte? Avresti potuto parlarmi? Non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami. Che è successo qui? Se mi menti ancora una volta... me ne vado. e non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità... io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. dimmi la pasta. Dimmi la pasta. per creare un vaccino... per creare un vaccino... ti avrebbero uccisa. io li ho fermati. Io li ho fermati. o mio Dio. Oh mio Dio... Cazzo! Non mi toccare! Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info